Domani, martedì 12 gennaio, partirà lo screening di popolazione sul Covid-19 per tutti i cittadini interessati al palazzetto Risorgimento in via Ginocchi di Civitanova Marche. Il servizio di screening sarà attivo dal 12 al 17 gennaio, dalle 8 alle 20 ed è rivolto a tutti i cittadini dei comuni di Civitanova Marche, Morrovalle, Monte Cosaro e Monte San Giusto. Tale iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto approvato dalla Regione Marche che mira ad individuare in modo rapido la maggior parte dei soggetti positivi e portatori di virus allo scopo di consentirne l'isolamento ed evitare, per quanto possibile, il contagio nei confronti della restante popolazione Covid-free. La partecipazione allo screening con test antigenico rapido è su base volontaria ed è gratuita. Sono escluse dallo screening le persone attualmente in malattia per qualsiasi motivo, i minori di 6 anni, chi è già stato positivo al Covid-19, chi è attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario e chi esegue regolarmente i test per motivi professionali. Per accedere al servizio sarà necessario esibire la testa sanitaria ed il modulo di richiesta di accesso al test scaricabile anche dal sito www.asur.marke.it alla sezione News. Qualora il test risulti positivo, il soggetto sarà prontamente richiamato per effettuare il tampone molecolare di conferma e sarà posto in isolamento domiciliare con le raccomandazioni relative ai comportamenti da adottare. Per eseguire lo screening di massa saranno impiegati operatori del volontariato, della protezione civile, delle forze dell'ordine ed il personale dell'area Basta 3 per la parte sanitaria. L'accesso al servizio è libero ed i comuni interessati dall'iniziativa hanno avviato la campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione per favorire la partecipazione volontaria dei cittadini.